buongiorno ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale a uscire lecchi per la campanellina per essere sempre aggiornati parliamo oggi del delle piogge che colpiranno l'italia nelle prossime settimane appunto già dalla nottata di lunedì 10 piogge molto diffuse colpiranno piemonte lombardia e liguria e anche la sardegna appunto a causa della perturbazione in arrivo dall'atlantico e poi susseguita al mediterraneo poi mentre dalla mattinata di martedì 11 un vortice piovoso e temporalesco in arrivo dal mediterraneo porterà precipitazioni molto forti su tutto il nord ovest e sulle pedemontane lombarde venete piemontesi emiliane e friulane possibilità di temporali abbastanza intensi su per il periodo sulle coste toscane e laziali avremo accumuli fino a 40 50 mm ogni 2 3 ore su piemonte lombardia sulla liguria e anche sulle altre pedemontane con rischio anche di 100 200 mm ogni 6 7 ore con il passare delle ore il maltempo si andrà anche a diffondere al centro con piogge temporali molto diffuse sulle regioni centrale sull'appennino centrale con temporali anche multicellulari supercellulari sulle coste della della campagna solo qualche piovasco sulla sicilia che sarà la regione un po più trascurata dal maltempo grazie a tutti grazie a tutti